Oggi sugli studi di Televive abbiamo con noi l'ingegner Stefano Bertolini, ingegnere elettronico che è anche presidente dell'associazione AISO, associazione italiana a studi sugli origini. Benvenuto Stefano con noi. Ci vuoi raccontare come nasce AISO e di cosa si occupa esattamente? AISO è nato nel 1999 con l'idea di promuovere l'idea, il concetto che siamo qui come risultato di un progetto intelligente cioè un Dio creatore e di condividere le informazioni scientifiche che sostengono questa posizione qui in Italia. Studi sugli origini quindi sulla base dell'evoluzione da forme di vita semplice a forme di vita più complesse attraverso il Big Bang oppure studi sull'origine nata dal Dio creatore e quindi da un progetto intelligente come tu dici? Sì, è una posizione che è in base ai studi scientifici. Cosa ci dicono? Assolutamente la scienza sostiene una posizione creazionista, cioè che noi siamo il risultato di un progetto voluto un progetto disegnato da un Dio creatore che è proprio una posizione molto apposta, molto diversa di quella dell'evoluzione che se noi siamo qui per puro caso. Siamo il frutto del caso, il frutto di difetti genetici, mutazioni. Questo non è quello che vediamo in realtà nella scienza. Grazie Stefano. La domanda che nasce spontanea è essere uno scienziato e sposare la posizione quindi creazionista. È uno simoro o in qualche modo è possibile conciliare la posizione creazionista con l'approccio scientifico all'osservazione dell'origine della vita e comunque dell'andamento della vita sulla Terra? Questa è una bella domanda. La sento abbastanza spesso che tanti dicono non è possibile essere un scienziato se credi in creazione. Cioè se credi in creazione in automatico o sei ignorante non puoi essere scienziato perché qualsiasi bravo scienziato può solo prendere una posizione evoluzionista. E questo lo sento spesso. E questo è un peccato perché questo veramente non è una giusta posizione scientifica. Cosa è la scienza? La scienza è un studio di tanti argomenti dove si prendono o si arrivano a delle conclusioni in base ai fatti, non viceversa. E vediamo tantissimi scienziati in tutto il mondo, anche i primi nei vari campi nella genetica, geologia, vari campi che sono proprio i primi nel loro campo che sono creazionisti. Perciò per me la scienza è una posizione di fede. Vanno perfettamente bene insieme. Infatti la cosa interessante è che la scienza veramente è cresciuta fra i grandi scienziati come Newton, come Pasteur e tutti questi grandi scienziati che erano tutti credenti, erano tutti creazionisti. Perciò chi può dirmi che non è possibile essere un scienziato che crede in Dio? Questo non è possibile. Perché la realtà è credendo in Dio, credendo che un Dio creato dalle leggi c'è più motivo per studiare queste leggi. E perciò assolutamente è possibile, si può essere in completa armonia, essere credente in un Dio creatore e essere un bravo e un buon scienziato. Grazie. Ma adesso la prossima domanda è, man mano appunto che la ricerca dell'uomo avanza nell'ambito scientifico e quindi la posizione evoluzionista in qualche modo viene rafforzata dalle prove scientifiche, quindi dalle nuove scoperte, oppure secondo te è stata indebolita negli anni? In questo campo vedo un netto cambiamento nella posizione di molti scienziati. Non solo vediamo tanti scienziati che sono molto conosciuti nel mondo, che hanno cambiato la loro posizione. Un classico esempio sarebbe Anthony Flew, il noto attio, il numero uno attio in tutto il mondo, che recentemente nei ultimi anni, in base a un ragionamento filosofico, è arrivato alla conclusione che aveva spagliato la sua posizione, che adesso crede un Dio creatore. Infatti ha scritto un libro che è tradotto in italiano, si chiama Dio esiste. Un altro esempio è il dottor John Sanford, che era uno dei massimi scienziati sulla genetica. Lua è uno di quelli che ha inventato la pistola del gene per modificare geneticamente gli organismi, in base a un studio della genetica di tutta la vita, dove ha avuto questi piccoli dubbi, però ha detto no, non è possibile, perché tutti i grandi genetisti dicono l'evoluzione è evoluzione. Alla fine della sua carriera è arrivata alla posizione di dire no, non posso ignorare i fatti, non posso ignorare le evidenze, perché l'evoluzione non sostiene quello che osservava in un studio della genetica, e così lui ha dovuto cambiare posizione. E vedo sempre più scienziati che cambiano questa posizione in base a un studio scientifico dei fatti. E secondo me la posizione delle evoluzioni si sta indebolendo, perché vedo sempre più che scienziati o organizzazioni atei sembrano essere maggiormente preoccupati dal lavoro che stanno presentando i creazionisti, perché diventa sempre la montagna di informazione scientifica a sostegno della creazione, sta crescendo e crescendo, non si può ignorare, e perciò sono maggiormente preoccupati. Si vedono delle campagne dove cercano un po' di rallentare l'effetto che hanno questi scienziati creazionisti a proporre la creazione, il modello creazionista dell'esistenza delle vite, perché conflitto completamente la loro posizione. Grazie. In che modo AISO divulga queste informazioni e quindi rende pubbliche magari queste scoperte delle posizioni creazioniste? Usiamo vari strumenti. Il strumento principale è la divulgazione di informazione scientifica. E questo lo facciamo attraverso vari metodi. Uno dei strumenti è la traduzione di libri, principalmente dall'inglese, libri scientifici a sostegno dell'argomento. Noi pubblichiamo regolamente sul nostro sito dei articoli scientifici su vari argomenti. Abbiamo regolamente presenza in varie interviste su radio. Abbiamo anche partecipato a TV nazionale. Perciò ci sono molte tecniche per presentare questa informazione. E principalmente, secondo me, una delle metodi più efficaci sono le conferenze sul creazionismo. E presentiamo delle conferenze scientifiche, una trilogia di conferenze, su vari argomenti che riguardano proprio il dibattito creazione e evoluzione. Per me questi sono fra i più efficaci, perché la gente poi alla fine ha l'opportunità di porre delle domande. E sento domande di qualsiasi tipo e quando la gente sente domande qualificate, risposte qualificate alle loro domande, iniziano a credere di più, a avere più fiducia che queste informazioni non sono solo da ignoranti o esclusivamente da una posizione di fede, ma arrivano da una posizione solida, concreta, scientifica. Che tipo di persone partecipano a questo genere di eventi, di conferenze che tu organizzi? Hai detto che la loro reazione è di credere maggiormente, ma che tipo di persone vengono? Vediamo di tutto il tipo di persone. Principalmente il grande pubblico. C'è il grande pubblico che viene alle nostre conferenze, va sul sito, ci fa delle domande anche tramite il nostro sito, ma vedo anche dei scienziati, dei scienziati evoluzionisti che vengono alle conferenze, a volte per curiosità, a volte anche magari per creare un po' di difficoltà per i curuzionisti. E li vedo tutti, sono tutti benvenuti. Non abbiamo niente da nascondere. La nostra posizione viene sostenuta in modo solida, secondo me, da fatti scientifici. Uno può essere non d'accordo dall'interpretazione dei fatti, ma questa è un'altra cosa. Nessuno può negare i fatti scientifici. Ed è interessante che abbiamo avuto delle risposte abbastanza variate, svariate, fra il pubblico. Da persone che tipicamente sono molto contenti di quelle che hanno ascoltato, molto interessanti di quelle che vi ho presentato, e vogliono approfondire l'algunamento, all'altro estremo che, sono contento da dire, abbastanza raro, di gente che viene proprio a insultare, chiamarci ignoranti. E questo anche a livello di scienziati evoluzionisti, non solo persone dal grande pubblico. Ho capito. Adesso mi viene da domandarti a questo punto, a tuo modesto parere, la posizione nella quale le persone si mettono nella comprensione, quindi nell'accettazione e la comprensione delle loro origini, creazionista o evoluzionista. In che modo influenza questo punto di vista, poi il loro modo di vedere la vita, il mondo, dove stiamo andando, e la fine di tutto questo. Sì, questa è una domanda molto importante. Quello su cui pensiamo delle nostre origini cambia completamente la nostra visione del mondo. Se noi pensiamo che siamo evoluti, che siamo qui per puro caso, che siamo il frutto di milioni di anni di adattamento, della sopravvivenza del più adatto, tutto il resto, avremo una certa posizione, una certa attitudine verso chi è magari più debole, chi magari è un concorrente. E secondo me molti dei problemi di questo mondo sono legati a questo concetto di evoluzione. Invece se noi crediamo che noi siamo il frutto di un disegno, il frutto di un progetto, cioè che apparteniamo a un mondo creato e voluto da Dio, allora la nostra posizione è molto diversa. E come vediamo il prossimo cambia, deve per forza cambiare. Perché se noi crediamo che... ma se io credo che io sono stato creato e che Dio ha creato tutte le altre persone, vuol dire che loro hanno un valore particolare negli occhi di Dio. Vuol dire che io non sono migliore o più importante o valgo di più di un'altra persona. E questo vuol dire che il mio rapporto con il prossimo cambia. E così l'argomento della creazione e evoluzione non è semplicemente un argomento di interesse scientifico va molto oltre. Ci tocca proprio il profondo della vita, proprio la struttura della società si basa su questo. La moralità, le leggi, il rispetto della vita, il valore della vita, tutte queste cose vengono veramente influenzate dalla nostra posizione sulle nostre origini. E io devo dire, i primi vent'anni della mia vita avevo una posizione. In base al studio della scienza ho dovuto cambiare la mia posizione. E vedo un mondo molto più bello in quel senso adesso rispetto a prima. Perché se io credo nell'evoluzione, come dichiarano molti atti, come Richard Dawkins, se uno è attio, non c'è scopo nella vita. Non c'è speranza di qualcosa di meglio. E questo, secondo me, è una posizione molto triste. In effetti, comprendere meglio le nostre origini, quindi da dove veniamo, ci aiuta a capire anche dove andiamo e il modo per arrivarci. Ti ringrazio Stefano. Se qualcuno volesse avere maggiori informazioni sulle vostre attività o addirittura invitarvi o seguire il vostro sito per acquistare alcuni dei vostri libri, qualcosa di questo genere, come potrebbe rintracciarvi? Ci vuoi dare qualche riferimento? Il nostro sito, che è completamente in italiano, è www.origini.info. Su questo sito troverete gli articoli ogni settimana, troverete anche il modo per contattarci, potete mandare dei email per porre delle domande, potete anche fare la richiesta di contatto o anche tenere delle conferenze nelle vostre città. Benissimo. Ti ringrazio e buon lavoro. Che il Signore vi benedica.